Ancora vittime sulla superstrada Ionica 106, a Reggio, questa volta nel tratto di asfalto che costegge il mare Ionio all'altezza della frazione Bocale. Un incidente avvenuto all'1.40 della notte, tra sabato e domenica, in cui hanno perso la vita due persone di Motta San Giovanni, cittadina al confine sud di Reggio, che dista appena una manciata di chilometri dal teatro della tragedia. Si tratta di Mattio Bringandì, 39 anni, Giuseppe Leonardo Farini, 48 anni, in salvo altre tre persone, anche loro originarie di Motta San Giovanni, che erano a bordo dell'autovettura, BG ci sono solo le iniziali di 41 anni, in prognosi riservata dopo il ricovero agli ospedali riuniti di Reggio, LIG di 29 anni e SF di 30 anni. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alle due persone che viaggiavano nelle postazioni di guida ed anteriore. Erroro umano, alta velocità o le condizioni meteo avverse per il forte vento che spirava la notte scorsa sulla sponda reggina dello stretto sono soltanto alcune ipotesi che gli inquirenti stanno cercando di accertare.